Buongiorno a tutti, per questa prima puntata della serie alle 8 del mattino ci richiama Sciolze, un paesino della provincia di Torino adagiato su una collina circondata da boschi e prati. Il centro del paese ospita il castello di San Severino costruito su resti medievali, degna di note anche la chiesa della confraternita dello spirito santo risalente al XVII secolo. Ma c'è un luogo che pochi conoscono e che meriterebbe di essere recuperato. Lungo la strada che da Sciolze va a Bardassano, a poche decine di metri dalla chiesa di Fagnur, semi nascosta dalla vegetazione convulsa di un appezzamento privato, c'è una specie di piccola cappella probabilmente settecentesca conosciuta come il Tempio e che la pochezza umana ha lasciato in balia delle intemperie. Infatti, questa sorta di tempietto laico versa in condizioni davvero fatiscenti. Penetrando attraverso la vegetazione possiamo notare come l'interno sia completamente invaso da macerie e piante. Difficile immaginare che aspetto avesse in principio. Pare che un tempo la volta della cupoletta fosse affrescata con un motivo identico a quello che si può osservare sul soffitto di una villa adiacente al terreno su cui sorge il nostro tempietto. Alcuni affermano che da lì si potesse sentire un eco, ma l'aspetto più interessante del Tempio è una misteriosa statua che gli sciolzesi di una volta chiamavano Barba Giove, cioè Zio Giove, e che nel corso di tutta la sua esistenza ha subito numerosi atti vandalici. Infatti alcuni lo ricordano con un tridente in mano, per cui potrebbe trattarsi di un Nettuno. Come potete notare da queste immagini, fino agli anni 40-50 aveva ancora la testa, che fu successivamente rubata dai gnoti. E come molti altri edifici abbandonati in giro per il Piemonte, il Tempio di Sciolze fu anche teatro di messe nere. Speriamo che prima o poi qualcuno si prenda la briga di restaurarlo, idem per tutti quei tempietti edicole e cappelle sparse un po' per tutto il Piemonte, che come il Tempio di Sciolze servivano per parlare seduti al fresco e godersi il panorama, o per riparrarsi in caso di pioggia. Buon proseguimento di giornata e al prossimo video!